Sanità, un flop la manifestazione di piazza, deluse le aspettative degli organizzatori. La gente ha disertato il corteo nonostante la riforma frattura non piaccia a nessuno. I molisani non credono più di poter cambiare le cose, il commento di qualcuno. A Movidic le emergenze regionali. Si è parlato di gamma, protezione civile, zuccherificio e frana di civita a Campomarano nella trasmissione andata in onda il risera su Telemolise. Forzano il posto di blocco e si schiantano con l'auto. È accaduto a Riovivo a Termoli. Tre giovani non si sono fermati all'alto della polizia e sono finiti sulle auto in sosta. Alla guida un 19enne senza patente e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Migranti, polemiche e speculazioni. Associazioni e comitati contro chi cavalca le preoccupazioni della gente. Il problema non sono gli stranieri, dicono, ma il denaro destinato all'accoglienza e la cattiva gestione. Altre tegole economiche per il campo basso. Anche Grillo, Tascini e Mulatero hanno presentato vertenza ai rosso-blu. Se il club non paga, arrivano i punti di penalizzazione. Un mese per mettersi in regola. Buongiorno, benvenuti all'edizione delle 14 del telegiornale in primo piano, la sanità. La gente resta a casa e diserta la manifestazione. Poche le persone in piazza a Campobasso in difesa della sanità pubblica. La chiamata alla mobilitazione di associazioni e forum questa volta non riesce. A maggio in piazza c'erano migliaia di persone. Dopo meno di un anno, solo qualche centinaio. Permangono tuttavia le criticità di una riforma, quella voluta da frattura, che penalizza i cittadini e distrugge in pratica il sistema pubblico. Il servizio è di Pasquale Di Bello. Se le cose vanno chiamate per nome, il nome della manifestazione in difesa della sanità pubblica che si è tenuta a Campobasso è uno solo, Flop. Un fiasco che apre la strada ad una riflessione per associazioni, movimenti e forum che da anni ormai si battono in difesa del sistema pubblico di qualità. In poco meno di un anno si è passati dalle circa 6.000 persone scese in piazza lo scorso 18 maggio alle poche centinaia che si sono radunate in occasione della giornata europea di mobilitazione in favore della sanità pubblica. La scarsa affluenza, tuttavia, non significa che il presidente della Regione Molise, commissario ad acta Paolo Di Laura Frattura, abbia ragione. Tutt'altro permangono intatte le criticità rispetto ad una riforma lacrime e sangue che ha in pratica avviato il progressivo smantellamento del sistema pubblico in favore di quello privato. Forum e amministratori restano in prima linea nella battaglia in corso. Non poteva essere che una sola manifestazione facesse comprendere alla gente qual è il grosso problema che stiamo vivendo in questo momento. Un problema drammatico è la gente che viene oggi a presentarsi a questa manifestazione, viene tutta quanta a riferire quali sono le peripezie che debbono attraversare per avere dell'assistenza, per avere delle indagini. Le liste d'attesa sono arrivate a 3, 4, 5, 6 mesi, per cui la gente è esasperata. Vede in noi la possibilità di un riscatto, però da soli non riusciamo a fare quello tutto. Noi su carta siamo stati riconosciuti ospedali di area disagiata. Il problema sono i contenuti, perché il riconoscimento c'è, va bene, insomma, seppur ridimensionato per tutto quello che era e che non è più, però adesso vorremmo capire per bene quello che ci spetta, soprattutto alla luce di altri ospedali di area disagiata che sono nelle varie regioni italiane. Alle vittime collaterali di una riforma scellerata si aggiungono anche i lavoratori dell'indotto sanitario. Io sono un lavoratore della mensa dell'ospedale Cardarelli e parla il nome per conto per tutti quelli che lavoriamo nell'indotto dell'ospedale. Molte volte, ha detto lei bene, poco fa, si parla tanto degli infermieri, medici, della sanità tutta, ma dell'indotto si parla poco o quasi niente. Noi siamo tantissimi lavoratori, mense, pulizie, cup pass, vigilanza. Di noi non si parla quasi mai. Noi comunque facciamo parte di questo sistema sanitario. E questo che voglio dire a tutti, a tutti i popoli molisano, ma soprattutto a Frattura, che molte volte si dimentica di noi. Noi molte volte siamo tattassati dagli orari, riduzione di orario, tutto. E su questa situazione bisogna averci chiaro. Per le gare d'appalto scadute da 17 anni che non c'è una gare d'appalto fatta. Ma al di là delle parole dei rappresentanti istituzionali, sono quelle dei cittadini che inchiodano senza appello frattura, persone e pazienti che pagano più di altri un pedaggio salatissimo e in alcuni casi rischioso oltre ogni limite. È successo che io dovrei fare prima una visita di controllo e poi mi dovrei operare. Però ho un problema, cioè sono andato prima dal dottore in ospedale a Tappino, il quale a sua volta mi ha mandato dal dottore di famiglia. Il dottore di famiglia a sua volta mi ha mandato all'ASREP. E come al solito con l'ASREP mi ci sono dovuto arrabbiare, perché per fare questa visita devo aspettare al 6 ottobre. Non so se questo è giusto, solo perché sono disoccupato, non ho un lavoro, non ho niente, devo aspettare e ho dovuto pagare anche 50 euro. Cioè allora io dovrei morire così loro non mi fanno né la visita né mi operano. Dalla sanità alle altre emergenze regionali. Se ne è parlato ieri sera nella trasmissione Moby Dick condotta da Giovanni Minicozzi. Sentiamo. Le vertenze gamma, zuccherificio, la protezione civile, ma anche il fenomeno del dissesto idrogeologico che riguarda gran parte del territorio molisano. Sono i temi affrontati nella puntata di Moby Dick andata in onda ieri sera in diretta su Tele Molise e condotta da Giovanni Minicozzi. In primo piano la frana di Civita Campomarano, che è l'emblema di una situazione estremamente preoccupante, denunciata dal sindaco Paolo Manuele, a cui ha fatto eco il primo cittadino di Larino, Vincenzo Notarangelo. Allo stato attuale sono state sgomberate dalle prime abitazioni 24 persone, per un totale di 11 nuclei familiari. L'evento sembra circoscritto nell'area che è stata definita nel verbale della commissione del 17 marzo. Ciò ha determinato la necessità di circoscrivere un'area rossa, cioè quella di interdire assolutamente a tutti, quindi oltre alle persone sgomberate sono state evacuate anche seconde abitazioni, pertinenze, garage, cantine. È un'area abbastanza vasta. È abbastanza estesa perché interessa complessivamente 40 immobili. Anche Larino in questi giorni, in queste settimane, è interessata da un fronte di frane. Ci sono famiglie in difficoltà a dire la verità? Ci sono. Sì, non hanno dovuto lasciare la casa, però vivono in una situazione di isolamento, di semi-isolamento. E quindi è una situazione che non fa dormire sogni tranquilli agli amministratori, né ai tecnici comunali. La politica nazionale con il patto per il sud ha previsto notevoli risorse per quanto riguarda la regione Molise e anche il contrasto, insomma la soluzione di quelli che sono i problemi legati al dissesto ideologico. Parliamo delle due frane forse più importanti d'Europa, se consideriamo Petacciato, e anche Civita Campobarano. Un discorso che è legato a doppio filo con la protezione civile letteralmente smantellata con la ricostruzione ferma al palo. Certamente è un problema complesso che chiaramente viene da lontano perché sono ormai diversi anni che noi ovviamente anche come organizzazione sindacale, di concerto anche con le altre organizzazioni sindacali, stiamo evidenziando quella che è una problematica che tocca diciamo decine e decine di unità lavorative che avevano dato lustro al sistema di protezione civile. La ricostruzione finisce nel 2018, il limite ultimo della ricostruzione è nel 2018. Ora, certo, le professionalità, il sindacato ha sempre cercato di salvare le professionalità e tutti i 210 lavoratori. Abbiamo fatto di tutto per arrivare alla soluzione per i 210 lavoratori. Ma l'attenzione è stata focalizzata anche dalle tante vertenze aperte, la GAM. Cambiamo argomento, stiamo parlando di GAM. Giancarlo Dile ha appena detto qualcosa, è stato fatto, ma non lo vedo completamente soddisfatto. Che cosa è stato fatto? È stato filmato e concordato, Sì, è stato omologato il concordato, quindi ci ha permesso ancora oggi di essere licenziati. La bella sorpresa di 5 milioni sono arrivati a 9 al concordato. Penso che oggi la procedura comunque è andata benissimo, perché da 5 a 9, penso che oggi chi ha festeggiato è stata proprio la procedura. E poi si è parlato anche di area di crisi con l'intervento telefonico dell'assessore regionale dell'attività produttiva e veneziale. A che punto siamo con gli strumenti per uscire da questa maledetta crisi? Allora, siamo oggettivamente a buon punto. Si è chiusa ieri la fase di presentazione delle domande per l'area di crisi non complessa, con un successo a livello Italia straordinario e ottimi numeri anche per quanto riguarda il Molise. e in fase di chiusura la procedura per l'area di crisi complessa. Infine l'appello rivolto dal sindaco di Larino alla Regione. Ma al di là dell'appello lo lancerai un po' più a chi governa la Regione perché investa sul territorio, investa con la prevenzione e la cura. La prevenzione, la manutenzione del territorio, i contadini che sono sentinella del nostro territorio, quindi investire sull'agricoltura per manutentarlo il territorio perché altrimenti frarà tutto. Il parlamentare Danilo Leva di Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista insieme alla collega di parte politica e cavo gruppo in Commissione Lavoro Giovanna Martelli ha chiesto un intervento al Governo affinché i lavoratori della gamma e delle aziende in area di crisi complessa possano usufruire per un ulteriore anno a partire dal 2017 della Cassa Integrazione. Le risorse sono già disponibili, ha spiegato Leva, mancano soltanto un correttivo normativo che può essere fatto in tempi rapidi. L'MDP ha continuato, sta lavorando affinché questa risoluzione venga approvata a larga maggioranza. Al fine, ha concluso Leva, di impegnare il Governo ad assumere i provvedimenti di competenza con la massima sollecitudine. Dopo la bocciatura del bando relativo ai trasporti pubblici da parte dell'autority, intervengono i consiglieri di opposizione in Consiglio regionale. Chiederemo che si esprima il Consiglio, ha detto l'ex Presidente della Regione, Michele Iorio. A pagare per l'incompetenza del Governo regionale saranno i molisani. Ce ne parla Marta Martino. Dopo la bocciatura della procedura attuata dalla giunta frattura per il bando relativo ai trasporti pubblici locali da parte dell'autorità garante della concorrenza e del libero mercato, interviene l'opposizione in Consiglio regionale. Abbiamo segnalato più volte le anomalie evidenziate, scrive l'ex Presidente della Regione, Michele Iorio, ma il Governo regionale ha finto di non sentire. La nota dell'autority ribadisce ciò che l'esperienza politica del centro-destra continua ad affermare da anni. Non solo è sbagliata la scelta di commutare il bando pubblico in una trattativa privata per decidere la società che dovrà gestire i trasporti pubblici locali, ma la colpevole inattività del settore da parte della giunta frattura in tutti questi anni ha comportato un esborso economico a carico della Regione e quindi dei molisani di ben 4 milioni anni in più. In passato, ricorda Iorio, seguendo linee di coerenza e beneficio del territorio e delle aziende, si era tenuto l'ok da parte dell'autority e ciò avrebbe fatto risparmiare al Molise sui trasporti circa 12 milioni. Sono stati confermati i nostri dubbi già esposti al Governo nella interrogazione di febbraio 2015, dicono i consiglieri di opposizione, con cui chiedevamo di conoscere i motivi che hanno portato la giunta a scegliere l'affidamento del servizio per la gestione unificata del tracking e del ticketing, aderendo con propri fondi regionali di circa 2 milioni di euro, che invece potevano essere destinate ad un settore dimenticato quale il sociale. Così come abbiamo sempre contestato l'utilizzo della trattativa privata di 130 milioni. Ora, dopo tutti i danni già recati al Molise da questa classe dirigente, cui i protagonisti dimostrano di essere sempre più dilettanti allo sbaraglio da un punto di vista politico, mi auguro, conclude Michele Iorio, che lo stop dell'autorità della concorrenza e del libero mercato spinga la giunta a rivedere le proprie posizioni. Non ci si può improvvisare amministratori, l'inesperienza e incompetenza politica producono danni ai cittadini e al territorio. In ogni caso, anche su questa vicenda, chiederemo se esprima il Consiglio regionale. Acquedotto Molisano Centrale, consegne parziali di opere nell'area Matesina. Le nuove condotte, circa 23 chilometri in totale, attraversano i comuni di San Polo Matese, Colle Danchise, Busso, Casal Ciprano e Fossalto, fino alla Fondovalle Rivolo. Sono stati oggetto di consegna anche il manufatto di sovravelocità di partitori e le relative apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, lo comunica il Presidente della Regione Frattura. E adesso parliamo delle primarie del Partito Democratico previste per il 30 aprile. Giovanni Minicozzi ha intervistato il parlamentare dei socialisti democratici Marco Di Lello, che insieme ad Oreste Campopiano sostiene la candidatura del Ministro Andrea Orlando. Cresce l'attenzione del PD in vista delle primarie del 30 aprile che dovranno eleggere il nuovo segretario del PD in sostituzione di Matteo Renzi o lo stesso Matteo Renzi. Nel frattempo i socialisti democratici hanno deciso di sostenere il candidato Orlando. Ne parliamo con Marco Di Lella. Perché mai questa scelta onorevole? C'è bisogno di rinnovamento all'interno del PD, c'è bisogno di chi si occupi del partito a tempo pieno. Matteo Renzi in questi tre anni ha fatto bene il Presidente del Consiglio, molto meno bene il segretario del partito. Noi siamo dell'idea che c'è chi si occupa del partito e chi svolge invece funzioni di governo. Oggi il 30 dobbiamo scegliere il nostro segretario. Io faccio appello a tutte le molisane e molisane perché vengono a votare, intanto per dare forza al PD che è l'unica forza progressista di cambiamento che può pensare, come ha fatto già in questi anni, di riportare l'autorevolezza dell'Italia in Europa, di risanare l'economia, liberare le risorse per le fasce più deboli per chi è rimasto indietro. L'unico grande partito riformista italiano. Quindi innanzitutto appello al voto, aiutateci a dare forza a questa prospettiva di cambiamento. Poi noi sosteniamo Andrea Orlando perché riteniamo che più e meglio degli altri può guidare il partito dinanzi alle scelte difficili che abbiamo davanti, delle amministrative, poi delle elezioni politiche, qui insieme alle regionali. Perché abbiamo bisogno di parlare a una fascia debole che ha smesso di votarci, che ha smesso di avere fiducia nei nostri confronti senza tralasciare la parte più dinamica, ricca e benestante della società. Un grande partito progressista deve riuscire a tenere insieme tante comunità, tante diverse anche aspettative. Matteo Renzi su questo non è riuscito a farlo abbastanza, Andrea Orlando è la persona giusta per farlo. Il ministro Orlando ha anche dichiarato nei giorni scorsi che in caso di vittoria sua al vertice del partito non si candiderebbe a Premier. Proprio per quello che dicevo. Noi stiamo per la distinzione tra la funzione di leadership del partito e di chi invece deve svolgere funzioni di governo. E' talmente tanto difficile governare l'Italia che pensare di governare anche il più grande partito italiano è praticamente impossibile. Parliamo dei socialisti, un partito ormai scomparso da tempo e molto ancora diviso al suo interno. C'è un futuro per il partito socialista italiano? C'è un futuro per il socialismo italiano, non per il partito in quanto tale perché noi riteniamo che oramai dopo la scelta del partito democratico di aderire al partito del socialismo europeo non si ha più tempo di piccoli orticelli. Abbiamo una grande idea che è una grande eredità, quella del socialismo che dobbiamo portare nel futuro e possiamo farlo solo in un grande partito, non in un piccolo. Ma se vingesse Matteo Renzi questa possibilità ci sarebbe? Intanto noi pensavo che vincerà Andrea Orlando e poi vedremo, ma ripeto, un'idea ambiziosa non li si può restringere negli angusti spazi di un monolocale. Serve una grande casa, è la casa democratica e la più grande casa riformista d'Europa. Adesso la cronaca, brutto incidente, ieri notte a Riovivo a Termoli dove tre ragazzi a bordo di una Peugeot hanno perso il controllo della vettura schiantandosi su alcune auto in sosta. Non si erano fermati all'alte della polizia ferroviaria. Alla guida un ragazzo di 19 anni senza patente e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il servizio di Manuela Iorio. Si è messo alla guida senza avere la patente e per di più sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Era l'una di notte quando un ragazzo di 19 anni di Termoli ha attraversato tutto il centro cittadino a velocità sostenuta con la Peugeot del padre. Ha incrociato una pattuglia della polizia ferroviaria che gli ha intimato l'alta accendendo anche i lampeggianti, ma il giovane in compagnia di altri due amici non ha rallentato e ha premuto ancora di più sull'acceleratore cercando di fuggire. Ha imboccato la strada per il mare e stava percorrendo via Riovivo quando subito dopo i lidi ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro due auto in sosta. Con lui a bordo un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 18. I vigi del fuoco intervenuti sul posto insieme alla polizia ferroviaria e la polizia stradale hanno lavorato parecchio prima di liberare la giovane dalle lamiere. I tre sono stati portati in pronto soccorso al Santimoteo dalle ambulanze del 118. I due passeggeri sono stati dimessi dopo poco. Il conducente invece è stato ricoverato con una prognosi di sette giorni. Per lui però è scattata la sanzione amministrativa di 5.000 euro per guida senza patente e una denuncia per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Continua a far discutere ai Sernia la questione migranti. Le preoccupazioni della cittadinanza ma anche le speculazioni politiche hanno spinto alcune associazioni e comitati a scendere in piazza per spiegare che a loro avviso il problema non sono gli stranieri ma il denaro messo a disposizione per l'accoglienza e in alcuni casi la cattiva gestione delle strutture. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. L'ultimo episodio si è verificato a Rocchetta dove un migrante ha tentato di aggredire la cuoca del centro d'accoglienza. Ancora prima il tentato omicidio di Cantalupo e la maxirissa di Isernia. Tutto questo ha generato un clima di preoccupazione oltre che di intolleranza nell'opinione pubblica. Ma c'è anche chi la pensa diversamente e a chi punta il dito contro i richiedenti asilo ricorda che il vero problema non sono loro ma il business che si sta facendo sulla loro pelle e il modo in cui viene gestita l'accoglienza. Di questo ne sono convinti i promotori del coordinamento Isernia Provincia Aperta. Oggi hanno convocato un incontro davanti alla Fontana Fraterna con l'obiettivo di tranquillizzare gli animi ma anche per dire no alle facili strumentalizzazioni. Ci rendiamo conto benissimo da soli che le situazioni che sono successe e quello che è successo nelle scorse settimane può aver creato un clima di tensione. Ed è normale, anche noi proviamo queste sensazioni. C'è però un problema di fondo, la gestione. Noi siamo sicuri che il problema più grosso dietro anche queste situazioni sia la gestione dei migranti in generale. Sappiamo che in Molise i numeri non sono così alti come vengono definiti. Ci sono politici che stanno in qualche modo spingendo in questo senso per fomentare l'odio, fomentare la violenza, fomentare questo clima di terrore. In realtà i casi sono isolati. Il coordinamento, che raccoglie diverse associazioni e comitati, ha anche presentato un documento al prefetto di Sernia, Fernando Guida, contenente proposte concrete per il miglioramento delle condizioni dell'accoglienza. Un maggior controllo sulle strutture d'accoglienza, controllo che andrebbe fatto sia su quegli aspetti che sono di bando, cioè quelle cose che dovrebbero essere fatte perché da bando vengono previste. Vi faccio un esempio, molto semplice. Se sul bando c'è scritto che i ragazzi devono fare lezioni di italiano per 10 ore a settimana, tu non puoi fargliene fare 3. Stessa cosa riguarda per il cibo, ma soprattutto per l'integrazione. Integrazione non vuol dire semplicemente mettere 20 persone, 30 persone o 110 persone in una struttura sulla statale, ma significa fare dei lavori, lavorare su questi ragazzi, capire che cosa possono fare, capire che cosa sanno fare, che cosa vorrebbero fare, se hanno l'idea di imparare l'italiano o se vogliono andare via dall'Italia. Sono persone, vanno trattate da persone. Questa è la prima cosa. Non ci può essere speculazione. Il problema principale sono i soldi. Il motivo per cui succede tutto quello che succede è il dio denaro, non c'è altro. E oggi alle 17, sempre in piazza Celestino V e Sernia, si parlerà ancora di migranti con l'iniziativa promossa da Giovan Carmine Mancini, componente nazionale del Comitato Politico del Movimento per la Sovranità. Saremo nella piazza simbolo della città, ha detto Mancini, per rivendicare e difendere a gran voce il nostro diritto, ma soprattutto dei nostri figli, a vivere la città di Sernia in piena sicurezza. Liberi dalle paure e dal terrore che questa emergenza immigrati sta causando. Conferenza stampa e sit-in di protesta questa mattina a Campobasso da parte dei comitati e movimenti per dire no ai decreti miniti Orlando. Si colpiscono i poveri, non le cause della povertà. Queste le parole di Michele Durante. Con 145 sì, 107 no e un astenuto, il governo ha incassato la fiducia sul contestato decreto Minniti Orlando sull'immigrazione. Il provvedimento ora passa all'esame della Camera. L'obiettivo dichiarato è quello di snellire le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, accelerare i rimpatri e assicurare regole certe per l'accoglienza. Ma le nuove norme introdotte si portano dietro un coro di critiche. Tutte le organizzazioni umanitarie che si occupano di diritto dell'immigrazione hanno contestato il decreto parlando di una mossa elettorale che insegue la destra nella criminalizzazione dell'immigrazione. Il punto più critico del decreto Minniti Orlando rimane l'eliminazione dell'appello e cioè di uno dei tre gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento. Nel caso in cui il richiedente asilo voglia fare ricorso contro il provvedimento rilasciato dalle commissioni territoriali potrà ricorrere solo in Cassazione. A Campobasso stamattina conferenza stampa e sit-in per la giornata di mobilitazione nazionale proposta dalla rete delle città in comune contro i provvedimenti del governo in piazza comitati e movimenti tra cui Lab, l'Isola che non c'è, rifondazione comunista rappresentata da Silvio Arcolesse e Ciccio Di Lucia, comunisti italiani, laboratorio progressista, unione sindacale di base, comitato molisano per l'attuazione della Costituzione, associazione antigone e osservatorio nazionale sulla repressione. Riteniamo che questa decretazione di urgenza su un tema così importante e su un tema di così grande sensibilità non sia degna di uno Stato civile. Riteniamo che non debba essere colpito il povero, ma bisogna trovare dei termini legislativi per governare le povertà che sono sempre più diffuse, che una città non si misura se ha uno o due barboni per strada, ma nella capacità di accogliere, non per accogliere tutti, ma per avere la volontà certa di fare qualcosa per chi ha bisogno. Io ne faccio un esempio che non entra probabilmente in questo tema, ma che noi l'anno prossimo dovremo valutare. Lo Stato ha eliminato i contributi per le gravi disabilità. Questo significa che nel 2018 le famiglie purtroppo già così sofferenti, così stressate anche socialmente, non riceveranno neanche quel minimo contributo che aiutava a tenere in piedi il bilancio di famiglia e uno dei due genitori dedicarsi a un figlio o a un fratello o a un genitore con queste difficoltà. Per Durante e Soci, con le sanzioni amministrative contro le persone senza dimora, i migranti senza regolare permesso e le persone in stato di povertà estrema, in situazioni di disagio sociale ed economico, in nome della sicurezza e del decoro urbano, si colpiscono i poveri, ma non le cause della povertà. Due alunni del liceo classico Mario Pagano di Campobasso rappresentano il Molise alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche. Si tratta di Stefano Rago e Christopher Villani, entrambi chiaramente in bocca al lupo. E ora andiamo all'Istituto Fermi Mattei, dove i ragazzi hanno portato a conclusione un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione, basato sull'innovazione tecnologica, che ha permesso ai ragazzi di costruire il robot e ideare app per smartphone. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. E giunto a conclusione, con ottimi risultati, Open Source Robotics, il progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione, con l'obiettivo di sviluppare le eccellenze del Made in Italy attraverso il coinvolgimento delle scuole e degli studenti, in questo caso quelli che frequentano gli ultimi anni dell'Istituto Superiore Fermi Mattei di Isernia. Oltre a loro, nel percorso formativo basato su creatività e innovazione tecnologica, sono stati coinvolti anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo Molise Altissimo. È un progetto molto importante, anche perché è uno dei 66 progetti finanziati dal MIUR, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del Made in Italy con il coinvolgimento delle scuole e degli studenti. Il nostro progetto ha avuto l'obiettivo di realizzare una piattaforma robotica open source in grado di interagire con l'ambiente esterno. Questa piattaforma è stata realizzata interamente nei laboratori dell'Isis Fermi Mattei con il contributo degli studenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Molise Altissimo. Scopo finale del progetto, che ha avuto come partner la Camera di Commercio, è stato quello di valorizzare le idee e le passioni dei giovani, offrendo loro gli strumenti necessari, comprese le stampanti in 3D, per ideare e realizzare robot e applicazioni per smartphone che potenzialmente possono tornare utili nella vita di tutti i giorni. Il progetto è nato l'anno scorso, è cominciato l'anno scorso, e consiste appunto in l'innovazione tecnologica e nella realizzazione di robot che poi servono appunto ai ragazzi delle scuole medie e elementari per imparare l'informatica, per imparare il coding. Tramite appunto dei prototipi, i ragazzi imparano a programmarli e a fare funzionare. Questi ragazzi hanno veramente inventato più di un dispositivo, più prototipi, soprattutto dei robot. Dei robot che sono in grado appunto di muoversi e hanno realizzato delle app. Delle app sono appunto delle applicazioni che possono essere utilizzate sia con il sistema Windows, sia attraverso lo smartphone, con il sistema Android, e la possibilità appunto di capire come si realizza un'applicazione del cedere e soprattutto imparare i fondamenti dell'informatica e della programmazione. Un appuntamento a Cantorupo nel Stagno è giunta alla terza edizione, la rappresentazione della Passione di Cristo organizzata dalla Proloco Fiorente in collaborazione con l'amministrazione comunale. Questa sera alle 21.30 sotto la guida della nota scenografa Marisa Rizzato e della guida spirituale del paroco Don José López, oltre 70 persone di ogni età, danno vita ai 15 quadri rappresentativi del Sacro Rito della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Dunque appuntamento alle 21.30 a Cantorupo nel Stagno. Ed è tutto pronto a Sant'Ilia Pianisi per la rappresentazione della Passione di Gesù che andrà in scena questa sera a partire dalle 20.30. L'evento è curato dall'associazione Crucis. Le anticipazioni nell'intervista di Fabrizio Occhionero. Siamo con Alessandro Iammartino, presidente dell'associazione Crucis di Sant'Ilia a Pianisi. Ultimi preparativi per la 24esima edizione della Passione Vivente. Sì, sabato sera sarà rappresentata dalla nostra comunità la 24esima edizione della Passione Vivente di Gesù. Alle 20.30 ci ritroveremo con tutti i figuranti qui nel convento dove dopo la benedizione del parroco della nostra comunità partiremo con un corteo. Dato che la nostra manifestazione è di tipo itinerante andremo ad abbracciare tutti i punti più importanti del paese, Fontana della Pace, la Madonnina, la piazza principale del paese per poi ritornare di nuovo qui sul sacrato del convento dove ci sarà l'ultima scena che è quella della Crucifissione. Un impegno che coinvolge attivamente la comunità di Santeria. Sì, siamo all'incirca 150 persone, tra attori e figuranti. Ogni gruppo ha preparato la propria scena e si è preparata anche spiritualmente per poter poi andare a realizzare nel miglior dei modi la nostra passione. L'associazione è dunque pronta per la 24esima Passione Vivente di Santeria, un invito a partecipare. Sì, io approfitto proprio di voi di Telemolise per invitare tutti a venire sabato sera alle 20 e 30 a Santeria e Penesi per la 24esima edizione della Passione di Gesù. Un grazie a tutti. Ed è tutto pronto per la Passione Vivente organizzata dalla parrocchia del Crucifisso di Termoli. La manifestazione è in programma stasera alle 20 nell'area del piazzale Sant'Alfonso. I ragazzi, i giovani e gli adulti invitano e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. E la Pia Unione San Giovanni Battista in collaborazione con la parrocchia San Giovanni Battista e con gli altri gruppi parrocchiali ha curato la settima edizione della Via Crucis Vivente che si svolgerà domani alle 20 nel piazzale davanti al convento di San Giovanni a Campobasso e nel vicino Campetto. Una passione di Cristo elaborata in chiave moderna. Bene, con questa notizia ci fermiamo. Ci sono le previsioni del tempo, poi il TG Sport. Grazie ed attenzione. Arrivesci. Grazie a tutti.